un saluto a tutti qui dago pippo nel video precedente ci siamo chiesti come creare un account paypal è davvero una cosa semplice non dovete spaventarvi al fatto di dover utilizzare un computer o uno smartphone per creare questo account perché è davvero semplice e questo vi permetterà di non cadere nelle truffe di cui nel video precedente ne abbiamo parlato molto delle truffe su facebook delle truffe in generale quando acquistate un prodotto online quindi creando questo account voi riuscirete a comprare in una maniera del tutto sicura e quindi non perdere soldi quindi invece di utilizzare il mio computer per creare un account utilizzeremo il mio ipad perché molti di voi utilizzano smartphone o tablet quindi venite con me avvicinatevi e vediamo insieme come crearlo allora innanzitutto installate paypal per farlo dovete andare su nell'app store se utilizzate un tablet apple quindi andate su app store e andate a cercare qua sopra in alto paypal quindi vi ritroverete questa icona con scritto paypal in questo caso io ce l'ho già installato se invece avete un smartphone android andate sul play store e digitate paypal e vi ritroverete sempre l'icona e noi lo andremo a installare in questo caso io l'ho già installato nel mio tablet apple quindi io andrò ad aprirlo e mi ritroverò con questa schermata di dove raggiungere un account quindi noi dobbiamo andarlo a creare qui ci viene detto non hai un account paypal registrati andiamo a registrarci all'inizio ci crederà qual è il tuo numero di cellulare io adesso vado a inserire il mio numero di cellulare e do avanti adesso nel nostro cellulare troveremo un codice andiamo a inserirlo perfetto adesso mi chiederà di inserire un account mail se voi non avete un account mail potete crearlo utilizzando vari servizi potete utilizzare la vostra mail di yahoo o la vostra mail di google cioè gmail quindi andiamo inserire una mail dopo aver inserito la mail che avete voi inserito una password ricordatevi di inserire la prima lettera in maiuscolo e poi inserire almeno un numero e un simbolo ad esempio una chiocciola un punto esclamativo un cancelletto quello che volete quindi io adesso vado a inserire una password dopo aver inserito la password andiamo avanti poi inseriamo nome e cognome utilizziamo il nostro vero nome e cognome mettiamo la nostra data di nascita e ovviamente nasconderò il contenuto per privacy andiamo avanti e inseriamo il nostro indirizzo di casa non vi preoccupate non c'è nessun pericolo perché paypal è una piattaforma molto sicuro perfetto io adesso andrò andrò a cliccare su acce aprendo un conto paypal accetto le condizioni non non voglio ricevere offerte promozioni quindi non lo attiverò attiverò solo questo qui accetto le condizioni accetto e creo il conto perfetto qua ci chiederà di collegare una carta se voi non avete una carta prepagata con una mastercard con i numerini scritti davanti allora potrete crearne una che tipo di carta dovete prendere nel prossimo video potremo vedere anche questo qual è la migliore soluzione per per avere una carta e acquistare online in alternativa possiamo collegare un conto bancario quindi inseriamo il nostro ivan in questo caso dopo aver inserito la nostra carta prepagata potremo vedere il nostro account qui possiamo inviare soldi possiamo richiedere soldi attraverso un codice e vedere il nostro saldo paypal in questo caso non ho niente perché non ho caricato nulla quale carta utilizzato allora io ho utilizzato la mia carta hype nel prossimo video magari potremo vedere come creare questa carta perché è una alternativa molto molto efficace per comprare online quindi io ve la consiglio molto nel prossimo video magari possiamo vedere come crearla e nel frattempo io vi lascio il link in descrizione per poterla ricevere subito faccio vedere come acquistare online quindi adesso vediamo come acquistare online io utilizzerò una piattaforma cinese bangood dove si possono acquistare tantissime cose andiamo a scegliere un prodotto io in questo caso sceglierò questo bellissimo drone della xiaomi chi può interessare è un ottimo acquisto quindi io semplicemente faccio acquista ora mi chiederà di pagare online attraverso questi metodi di pagamento facciamo invia ordine e qui mi chiederà di pagare o con paypal o con una carta prepagata noi utilizziamo paypal perché abbiamo appena creato l'account quindi in questo caso andiamo a fare paga ora adesso mi aprirà la pagina con l'account paypal che ci siamo appena creati quindi noi semplicemente dobbiamo inserire qui sotto la nostra la nostra mail che abbiamo scelto la nostra password per fare accedi lui mi chiederà una autenticazione obbligatoria attraverso il numero di telefono che abbiamo scelto il nostro numero del cellulare quindi andrò a inserire il codice di sicurezza e faccio continua identità confermata e andiamo al check out qua praticamente mi farà vedere l'importo che dovrò dovrò spendere l'indirizzo di spedizione utilizzo la mia carta hype che ho configurato e qui sotto faccio paga adesso in questo caso non lo faccio perché non lo voglio acquistare quindi questo è un metodo molto semplice per acquistare per mezzo di paypal quindi mi raccomando utilizzate questo metodo di pagamento perché questo metodo vi aiuterà a non perdere i soldi non rimanere truffati perché su internet circolano tantissime truffe specialmente quando acquistate quindi utilizzate questi questi metodi perché se il prodotto non vi arriva allora paypal vi aiuterà a ricevere a riprendere i soldi indietro se il prodotto arriva danneggiato la stessa cosa paypal vi aiuterà a ricevere di nuovo i soldi a rimandare indietro il prodotto e vi aiuterà in ogni cosa quindi nel prossimo video vedremo magari come crearvi una carta prepagata in maniera maniera molto semplice non vi spaventate se non siete tanto pratici con con il computer con con la tecnologia perché seguendo le istruzioni queste istruzioni passo per passo allora tutto sarà molto più semplice e sarete molto più sicuri quindi io per questo vi rimando al prossimo video rimanete sintonizzati e iscrivetevi al canale e accendete la campanellina questo è molto importante perché vedere un video non essendo iscritti e come non aiutare me potrà poter progredire in questo con questo canale e semplicemente aver rispetto del lavoro che sto che sto facendo perché comunque iscrivendovi cliccare su iscriviti non costa nulla e nessuno verrà disturbato da un semplice clic su iscriviti quindi conto nella vostra comprensione e ci vediamo alla prossima ciao ma che cosa sarà questo questo è un easter egg ciao 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 ciao